Nell'ostico parchè di Gela, la Kuzn Caltanissetta riesce a vincere e a convincere, dando una buona prova di carattere in un match combattuto sino alla fine. Partono forte i gelesi che fanno valere la loro fisicità e la Kuzn invece paga l'assenza sotto canestro di alcuni suoi gestisti. Ma dove manga l'altezza, il quindetto Nisseno riesce a mettere altra velocità ed esperienza, riuscendo a svoltare la gara nel terzo tempo, portando poi la gara dalla propria parte. Il Gela ci prova sino alla fine a riportarsi sotto, ma la squadra nissena riesce a resistere e a portare a casa due punti pesanti, consolidandosi al secondo posto e a sole due lunghezze della capolista Ragusa, battuta fuori casa dalla Salusport, prossima avversaria della squadra nissena. Basket, promozione, girone D, seconda giornata del terzo turno. Salusport, Olimpia, Ragusa, 76-46. Nuova città di Gela, Kuzn, 61-64. Riposa, Fenice-Priolo. La classifica. Olimpia, Ragusa, 6. Kuzn e Salusport, 4. Nuova città di Gela, 2. Fenice-Priolo, 0.